Molto precisa sul versante della necessità europea e del superamento dell'idea che basti la moneta e la politica monetaria, direi non particolarmente articolata invece sulle questioni del nostro paese, delle sue necessità e del lavoro, salvo questi due riferimenti, quello al fisco e quello all'eccesso delle retribuzioni degli altri livelli. Non c'è un particolare... Non c'è un particolare... No, 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 ne affronta una parte e non parla del lavoro, cioè se uno dovesse dire da dove si riparte questa relazione non lo dice, indica quali sono le ragioni della difficoltà.